ok e qua siamo... Dickface presenta la casetta ecco qua c'è un fantastico coso timelapse si no intendevo il blu blu ah il casetto blu 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 si il casetto blu blu qua stiamo montando la struttura della casetta si esatto la struttura magnifica della casetta e mi sembra... cioè solo per il primo pezzo ci abbiamo messo almeno 10 minuti si il primo pezzo è stata la parte difficile ci abbiamo preso la mano dalla solidezza della casa ora la solidezza è la stessa cosa spero che i professori non vedano questo video qua tipo l'avevamo montato tutti e quattro e allora abbiamo cercato di montare i pali si dopo tipo non avevamo più pezzi qua abbiamo montato questi pali, l'avevamo bellissimo eh si questi sono rimasti poi c'è si questi sono rimasti poi mi sono messo a montare il giocoliere un po' allora si è messo a montare il patrocchio guarda eh? si fra un po' ma comunque eh si fra un po' mi sono messo a montare il servo patrocchio e qua ero stanco a morta ero sudato puzzavo come un caprone e poi ci abbiamo preso i pezzettini che dovrebbero essere eh si questi dovevano essere i nostri pali si che hanno tipo spezzato allora noi li abbiamo messi con un po' di colle un po' di scotch e un po' di viti però magari li abbiamo messi con una brutta idea e ne abbiamo comprati altri e si è stata una buona idea e non prende altri yeah nick è un po' arrabbiato a tutti va andate tutti a fare il adesso vi faccio vedere come è arrivata la casa oggi come per adesso stiamo volando da stamattina dalle sei però comunque vedete questa qua è la struttura che ci abbiamo messo tipo un botto per farla è un po' storto però vabbè ecco qua questo qua abbiamo iniziato a montare la prima abbiamo iniziato a montare le impalcature e il primo pezzo del pavimento quello ero io che ho spento la tecla non è 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 fammi vedere la tua faccia come ti senti e ora salgo anch'io si 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 prova ora possiamo entrare oddio come vediamo oh ecco qua abbiamo iniziato a montare beh abbiamo montato la struttura le pareti adesso le pareti la prima parete è stata molto difficile poi abbiamo sempre preso la mano contando che io sono il genio dei geniacci si ma solo io stavo montate storte eh si vabbè questo abbiamo avuto un po' di problemi con questa parete perchè è diventato un po' storte si poi qua non so siamo andati in avanti con il tempo abbiamo montatevi due in tipo ma non si è sempre stato là seduto si c'è ciummi la tartaruga di Dani che si vede che gira nel recinto testo numero uno è asciutto si entra? no fantastico il legno come sembra stare? eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua sono le 10 e 15 non ce la faccio più ti porto in clinica e questa è la nostra casa la vedete questo è il tetto fantastico abbiamo usato un tetto cosa cosa il walkie talkie abbiamo comprato dei fantastici walkie talkie ok quasi finita la casa questa qua è la lastra di plexiglas finestra si abbastanza ok e questo è un'altra finestra e quello è nick perché si è bruciato è una patata nel dito è una patata nel dito ok 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 ecco qua eravamo nel processo di costruzione della grondaio infatti quello è il coso della grondaio c'è l'acqua anche per le piante daniel ha ucciso un suo cacto oggi ah giusto per dare qualcosa a dire no in tuo in tua difesa no ti senti colpevole no no non si sente colpevole tutto quello che è fatto che sbaglio non è colpa sua però stare un po' potente conto ogni tanto serve c'è questo è un'ezione di vita eh sì ok ciao addio buongiorno buongiorno siamo su dickface e stanotte dormiamo nella casetta suca io non credo che siano le 9 dice che sono le 9 può essere sono le 23 tani perché è buio non ci riesce non ci capisce in cazzo vabbè non è un po' voi non è un po' voi non avete il diritto di entrare nella mia timora ci sono pezzi di ragno vabbè non importa adesso io dico che ho il diritto questa è casa mia io posso aprire tutte le finestre la casa è dedicata a jonathan cioè o jonathan non è qua jonathan è il figlio della mara ma la viva jonathan